Scusate Non è il vento La mano ventata, via! E dentro della piazza, via! E dentro della piazza, via! Tutti i lacetti delle scarpe, sono da rivedere la mamma aiutanti Questo che vi aspetta qua tutto veloce Via musica, video, appare sempre davanti e immobile, puro, abbiamo finito con 5 minuti di antico, incredibile, non è possibile!